L'ultima moda è un modella in vivo E' molto meglio dedicarci ai nostri orficelli eroici Dove crescono i bimbi sarcastici E noi da noi siamo cinci Lavorando con lentezza per un'agenzia di marketing Orientatissimo a fregare Questi chiedessimi contatti Tra i fai scelmi decisioni di si mette Siamo rimasti due a non praticare E sono un'attività 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 Cari sferici, camminiamo come diplomatici Per ritrattare una tregua, proprio sempre quella chiave che hanno fatto spezzato dentro Ti rigidisci, dici, io non sento, io invece mi sento un relito Tra i qualsiasi rinascensioni di stimenti, siamo rimasti due a non praticarmi scompetire Gioca da lungo e nello stella sul volo, sul volo, sul volo, sul volo Se puoi darti un chito aiutata fra la gente, nel filo che è confermato non è mai cambiato niente E non c'è un senso, non si sento le salite da tutti, sicuramente non sono due, senza tempi Grazie a tutti Grazie a tutti